Buongiorno a tutti, sono Chiara Savettieri e sto per fare una conferenza sul pigmalione galatea di Henri Giraudet, una tela che venne esposta al Salon del 1819. Sicuramente il Salon del 1819 è passato alla storia per La zattera della medusa di Jericho, ma come vedremo l'opera di Giraudet non è priva di interesse, anzi si rivela essere un'opera molto interessante per capire il passaggio nella cultura francese dal neoclassicismo al romanticismo. Il suo autore, Henri Giraudet, è un allievo del grande pittore della rivoluzione francese Jacques Louis David ed è un artista molto inquieto, un artista che oscilla in continuazione tra due poli, il polo classicista e il polo anticlassico, il polo della bellezza ideale e quello dell'espressività anche caricata, un artista problematico, complesso e spero di riuscire a rendere la sua complessità nella conferenza che vado a tenere. Allora, questa appunto è l'opera di Giraudet, rappresenta un mito molto celebre, il mito di Pigmalione e Galatea, un mito che ha un'origine ovidiana. Infatti Ovidio nelle sue metamorfosi si parla di Pigmalione, il re di Ciprio, che a un certo punto si innamora perdutamente di una statua bellissima. Ne è così innamorato da chiedere a Venere, segretamente, di trasformarla in una fanciulla in carne ed ossa e Venere decide di soddisfare questo desiderio e quindi la fanciulla si trasforma in una donna riempendo di felicità Pigmalione. Quindi, secondo il mito ovidiano, Pigmalione è un re, non è uno scultore. L'idea di Pigmalione come scultore arriva molto più tardi con un'opera di Rousseau intitolata Pigmalione, scène lyrique, del 1669 ma pubblicata postuma nel 1771. Ed è qui che Pigmalione è rappresentato e descritto come un artista nel suo atelier in preda alle difficoltà della creazione artistica. Pigmalione in Rousseau è l'autore di questa statua così bella che sembra essere quasi vivente. Rousseau smussa, ridimensiona l'intervento di Venere e trasforma Pigmalione in una sorta di artista creatore, quindi in una sorta di prometeo. È chiaro quindi che nel momento in cui Giraudet affronta il mito di Pigmalione sa benissimo di affrontare un mito, un tema che può caricarsi di un significato di tipo estetico. È ovvio infatti che la storia di Pigmalione e Galatea può coinvolgere tematiche come quelle del mistero della creazione artistica, del rapporto tra l'artista e la natura, del rapporto tra l'arte e la realtà. Giraudet ci presenta Pigmalione piuttosto come un poeta, con questo drappo di porpora e con questa corona di mirto, sembra piuttosto quasi un poeta. La scena si svolge in un bellissimo belvedere e non c'è alcun segno del lavoro artistico, non c'è nessun materiale, nessun oggetto che ci riporti alla dimensione dell'atelier. Galatea è, come vedete, una bellissima fanciulla colta nel momento in cui sta per svegliarsi e la vita le viene infusa da questo amorino che costituisce il trait d'union tra i due amanti. È l'amorino che infonde la vita, infatti tutta la parte superiore del corpo di Galatea appare simile a quello di una donna vivente, mentre nella parte inferiore, ad esempio se guardiamo i piedi, sembrano ancora di alabastro. Non c'è nessun contatto tra i due amanti. L'unico contatto avviene attraverso l'intermediazione di questo amorino. Pigmalione sta per toccare la bellissima fanciulla in via di trasformazione da pietra a essere vivente, ma di fatto non la tocca. E anche Galatea è rappresentata col corpo di una fanciulla, come abbiamo detto nella parte superiore, ma le palpebre sono chiuse e quindi attendiamo il risveglio di Galatea. Il risveglio vero e proprio è lasciato in sospeso, non è dichiarato, non è esplicitato. Quest'opera venne criticata da Delacroix nel 1824 in un poema che è sfuggito finora all'attenzione degli studiosi di Giraudet, ma anche di Delacroix ed è un poema molto interessante perché critica in maniera ironica il dipinto di Giraudet. Delacroix si rivolge all'inizio a Galatea e la invita a risvegliarsi, forza risvegliati, ma poi a un certo punto le dice che forse è meglio non svegliarsi se è per vedere questo pigmalione di ghiaccio. In effetti nel Salon del 1819 il pigmalione venne criticato proprio perché troppo freddo. Ha un'espressione inebetita, leggermente sorpresa, ma è troppo timido e non esprime veramente la passione amorosa che lo lega a Galatea. Delacroix gioca proprio sulla freddezza del dipinto per trasformare la tela in una sorta di medusa. Infatti Delacroix dice che il dipinto è così freddo che rende di pietra lo stesso spettatore. Quindi secondo Delacroix il dipinto di Giraudet sortirebbe l'effetto inverso che invece dovrebbe suscitare, cioè ovviamente il mito di Pigmalione e Galatea dovrebbe celebrare la capacità dell'arte di di avvicinarsi quantomeno alla vita, mentre questo dipinto dice Delacroix è tutto il contrario, è una tela mortifera, una tela che paralizza lo stesso spettatore e che invece di esaltare il potere dell'arte, di dare la vita alle sue creature, esprime una sorta di inefficacia della pittura stessa di Giraudet ad esprimere la vita e le sue emozioni e le sue passioni. Certamente il giudizio di Delacroix è un giudizio molto severo, ma è dovuto al fatto che il giovane Delacroix era strettamente amico di Giraudet, tutta la giovinezza di Delacroix è segnata dal mito di Giraudet. E proprio al Salone del 1819 infatti era stato esposto un dipinto celeberrimo, oras celeberrimo, la zattera e la medusa, che fece scalpore, ma che come ha sottolineato Bruno Schenick, ha anche suscitato molto interesse, la zattera della medusa attirava le folle. Chiaramente il dipinto di Giraudet e il dipinto di Gericò sono agli antipodi, infatti il dipinto di Giraudet rappresenta un soggetto mitologico, un soggetto quindi molto nobile, mentre Gericò rappresenta una disgrazia contemporanea. I protagonisti del dipinto di Giraudet sono dei nobili personaggi mitologici consacrati quindi da una lunga tradizione occidentale, mentre i protagonisti del dipinto di Gericò sono dei disperati. Inoltre nel dipinto di Giraudet c'è il trionfo del bianco, questo corpo di Afano di Galatea che spicca su uno sfondo luminoso e questa fu una vera e propria difficoltà che si pose Giraudet e che riuscì a superare, perché è molto difficile rappresentare un corpo estremamente chiaro che si staglia su un fondo altrettanto chiaro e altrettanto luminoso. Nel dipinto di Giricò invece trionfa quest'atmosfera cupa, niente affatto luminosa, ma soprattutto trionfa il nero. Il nero, infatti abbiamo dei personaggi della zattera della medusa che sono neri ed in più abbiamo un mulatto che addirittura è il protagonista del dipinto, questa figura vista di spalle che agita il drappo per rendere la zattera visibile alla nave Argo che si intravede molto ma molto in lontananza. Chiaramente il dipinto di Gericò è un dipinto che ha un significato politico legato a idee libertarie, legato a idee antischiaviste, abolizioniste, di uguaglianza e di fratellanza tra tutti gli uomini. Sicuramente il dipinto di Giraudet non ha niente di tutto questo, è un dipinto che ha un suo contenuto estetico perché come ho già detto il mito di Pigmalione coinvolge necessariamente delle riflessioni e delle idee di tipo estetico, ma è un dipinto che dichiara la lontananza della pittura dalla vita reale, dalle tragedie, dalle disgrazie, dalle sofferenze dei più deboli e dei più fragili. Quindi un dipinto tutto estetico, quello di Giraudet, un dipinto che ha un forte significato umanitario e politico, quello di Gericò. Ora il giovane della Croix posò per la zattera della Medusa e aveva Gericò come modello, lo si vede nelle pagine giovanili del giornale, addirittura probabilmente nella barca di Dante della Croix, appunto Gericò intervenne, lo sappiamo da una serie di testimonianze come ha sottolineato Bruno Chenic e probabilmente in questa figura di dannato c'è l'intervento di Gericò, solo che non lo possiamo verificare perché della Croix ha restaurato la tela un bel po' di anni dopo, rendendo così irriconoscibile l'eventuale intervento di Gericò. Il 1824, l'anno in cui della Croix scrive il poema contro il pigmalione galatea di Giraudet, pubblica al Salon del 1824 il massacro di Sciò che se stilisticamente ha altri punti di riferimento oltre a Gericò, in particolare Rubens, tutta una parte della pittura del Seicento, però chiaramente si inserisce nella strada aperta da Gericò, cioè nell'idea di una pittura che si fa testimone dei drammi contemporanei, quindi un cambiamento di segno della pittura di storia che non serve più per elogiare il potere, che non serve più per comunicare dei messaggi positivi, ma che può essere utilizzata come strumento di demistificazione, di denuncia delle violenze e delle disgrazie del mondo contemporaneo. Questo ci fa vedere bene quale fosse la prospettiva di Delacroix nel momento in cui scrive il poema contro Giraudet e ci fa capire perché non amasse assolutamente questo dipinto. C'è una cosa importante da dire, tra l'altro, che il Salon del 1819 è un Salon fondamentale. L'ha mostrato la bella mostra Giraudet face a Gericò, che si è tenuta al Musee Giraudet di Montargis nel 2019. Questa mostra ha ricostruito il Salon del 1819 e ha dimostrato come fosse un Salon fondamentale proprio perché è in questo Salon che nasce la prima battaglia romantica. Il primo scontro tra i sostenitori di Gericò e quindi di una visione moderna e anche romantica dell'arte e i sostenitori di Giraudet che ovviamente difendono una visione più conservatrice dell'arte legata ai principi del bello ideale e a tutti i valori della pittura neoclassica e della scuola neoclassica. Quindi Delacroix sicuramente ha vissuto lo scontro tra questi due gruppi e di sostenitori di Giraudet e di Gericò e sicuramente è stato dalla parte di Gericò e quindi di una visione nuova e moderna della pittura. Ma per capire il dipinto di Giraudet dobbiamo fare un passo indietro e andare all'inizio della genesi dell'opera che fu una genesi molto lunga. Infatti il dipinto commissionato nel 1812 sarà concluso ed esposto al Salonno del 1819. Giraudet mise ben sette anni per realizzare quest'opera come testimonia questa lettera a Turpin de la Crisset del giugno del 1817. Contrariamente all'opera di Giricò, quella di Giraudet non è assolutamente un'opera libera, cioè un'opera che è fatta su commissione. Il committente fu il collezionista Giovanni Battista Sommariva. Giovanni Battista Sommariva era un avvocato di Lodi che approfittò del dominio napoleonico in Lombardia per acquistare potere, ma abusò di questo potere vessando la popolazione con tasse e creò un tale malcontento che lo stesso Napoleone fu costretto a prendere la scena politica. Sommariva decise a quel punto di trasferirsi a Parigi nel 1806, installandosi nel 1807 nella rue Basse de Rampart, dove cominciò a creare una collezione che nel corso degli anni diventa molto ricca e molto importante. Qui vediamo raffigurato Sommariva da uno dei suoi pittori preferiti, Pierre-Paul Proudhon, e lo vediamo con in mano un libro e sul retro del personaggio, vediamo due statue, sono due statue di Canova, il Palamede e la Tersicore. Ritorneremo su questo dipinto. Prima andiamo a capire come fosse la collezione di Sommariva. Ecco, la collezione di Sommariva era una collezione che aveva un gusto ben preciso, non era una collezione di Sommariva, ma al contrario era molto coerente nelle sue scelte. Infatti c'è una predilezione per i soggetti erotico-mitologici, vediamo qua il celebre dipinto di Proudhon, l'altrettanto celebre Amore psiche di David, questo dipinto di Granger. Ecco, come vedete, sono opere legate a un neoclassicismo molto aggreable, legato appunto a dei soggetti di tipo erotico, con una tecnica molto finita, molto preziosa. Ecco, qui abbiamo il dipinto di Pierre Narcisse-Guerand, Aurora e Cefalo, del 1810, ed è molto interessante che questa figura dormiente di Cefalo, un po' femminea, ricordi chiaramente Il sonno di Endimione di Girodè, opera giovanile del 1791 realizzata a Roma, opera che Sommariva aveva cercato di acquistare da Girodè, ma Girodè non glielo permise. Quindi non è un caso trovare poi l'Endimione citato da Guerin in questo dipinto. Abbiamo una prova in qualche modo dell'interesse di Sommariva per questo dipinto e la prova è questa tela di François-Louis De Girodè, che era un allievo di Girodè, che rappresenta Girodè mentre realizza Il pigmalione galatea e vedete al lato, abbiamo De Girodè e lo stesso Sommariva, con in mano i guanti e la tuba, che assiste alla realizzazione dell'opera. Sullo sfondo si intravede l'Endimione di Girodè, lo vediamo anche qui in questa incisione, anzi ancora più chiaro, ecco qui c'è l'Endimione e vediamo anche quello che fu poi il modello della Galatea di Girodè e cioè la Venere Medicea. Il dipinto di De Girodè ci dice un altro aspetto del collezionismo di Sommariva e cioè il fatto che in lui ci fosse anche una predilezione per quei dipinti e quelle opere che dessero un'idea del lavoro dell'artista, quindi c'è un certo numero di dipinti legati o di commissioni di Sommariva legate all'atelier dell'artista. Ovviamente per Sommariva era un modo per dichiarare la sua intimità con gli artisti, la sua amicizia con gli artisti e il fatto che proprio lui fosse capace di penetrare negli atelier e di assistere gli artisti nella loro fase creativa. Abbiamo qui un altro esempio, questo delizioso dipinto di Adrienne Marie Louise Grandpierre, l'atelier d'Abel de Pujol del 1822, ecco anche qui vediamo questo interesse per la vita dell'atelier e per il fare arte. Ma diciamo l'artista prediletto da Sommariva era Canova, infatti Sommariva possedeva quattro capolavori canoviani, la Maddalena Penitente che venne esposta con grande successo al Salon Parigino del 1808, l'Apollino, la Tersicore e il Palamede. Ora, se in questo periodo in Europa c'era un artista che poteva essere considerato come una sorta di pigmalione moderno, questo era proprio Canova. Sia in Italia che in Francia, infatti, Canova era considerato come una sorta di moderno pigmalione, in quanto Canova riusciva a superare due limiti del marmo, la pesantezza e la durezza e infatti le sue opere, al contrario, sembrano con grande nonchialanza grande spontaneità e grazia, sembrano leggere, leggiadre, danzanti e morbidi. Tanto è vero che appunto Canova utilizzò per i marmi fidiasci l'espressione vera carne, ma questa espressione vera carne era anche utilizzata per descrivere i marmi canoviani, caratterizzati appunto da questa dolcezza, da questa morbidezza del marmo che perde quasi la sua durezza. Qua ci sono dei dettagli, è una citazione da Catremer de Cancy, che era appunto amico di Canova, il quale sottolinea che le opere di Canova sembravano essere venute fuori da un miracolo. Non sembravano opere scolpite, ma opere create, proprio perché non si percepiva nei marmi canoviani, un'idea di sforzo, di lavoro, tutto sembrava spontaneo e facile in queste sculture, straordinariamente vitali e vive. Di qui appunto il significato dell'appellativo di Canova come pigmalione moderno. E questo si vede molto bene nel modo in cui Canova fa rivivere il modello antico nella Venere italica, chiaramente il punto di riferimento è la celebre Venere medicia, ma in qualche modo Canova rivitalizza il modello antico in una chiave moderna, come sottolineò lo stesso Stendhal. E cioè sembra una fanciulla uscita dall'acqua che si copre col drappo sentendo freddo e con questa testa che scatta verso la parte dietro la fanciulla a guardare le sue ninfe, le sue compagne rimaste nell'acqua. Quindi c'è una forte dimensione dinamica, di spontaneità, di modernità nelle sculture canoviane. È un aspetto fondamentale proprio l'aspetto dinamico delle sculture canoviane, il senso di movimento che è sempre aggraziato per questo Canova, ama molto le figure danzanti. Qui vediamo la Ebbe, ecco Ippolito Pindemonte che dice che nelle opere canoviane pietra e moto sono congiunti, è uno simoro, la pietra non si muove, invece Canova la rende dinamica, la trasforma in creatura danzante. Ecco Catremer quindi sottolinea come Canova avesse ritrovato il segreto di Pygmalione e che sotto l'influenza della sua arte la materia acquistava la proprietà della vita reale. Ecco la danzatrice con le mani ai fianchi venne esposta nel Salon del 1813 insieme alla Persicore e ebbe un successo strepitoso. Catremer de Cancy dice in questa lettera a Canova proprio del 30 gennaio 1813, fa impazzire tutti e definisce Canova l'unico scultore perché solo lui riesce appunto a far vivere la pietra. La cosa interessante è che la danzatrice con le mani ai fianchi venne esposta assieme alla Persicore e il pubblico ebbe l'impressione che le due statue facessero parte di un unico tableau vivant in cui Persicore che in realtà era la musa e la danza suonava e la danzatrice danzava appunto seguendo le note suonate da Persicore. Quindi c'è questo effetto proprio di vita reale di messa in scena nel Salon. Ecco perché da Crudon Sommariva si fa ritrarre con due statue canoviane nella parte retrostante proprio per celebrare questa sua amicizia con Canova. Mi sono soffermata tanto su Canova e sul pigmalione moderno perché per l'appunto in origine il pigmalione galatea di Girodè non era altro che una commissione fatta da Sommariva a Girodè per celebrare Canova. Ci sono tutta una serie di lettere che mostro in questa diapositiva che testimoniano appunto di questa idea di Sommariva che appunto il dipinto di Girodè doveva essere una celebrazione di Canova. Non sto a leggerle tutte, addirittura in una lettera del 17 settembre del 1813 si parla di Girodè che travaglia con indefesso zelo al pigmalione animante la Persicore cioè come se addirittura nella commissione ci fosse l'idea che la galatea di questo pigmalione dovesse avere le fattezze della statua di Canova posseduta appunto da Sommariva. Ora abbiamo una lettera del 19 gennaio del 1813 di Girodè a Canova che testimonia di qualcosa di molto importante cioè il punto di vista di Girodè e in effetti Girodè fa riferimento alla Persicore, fa riferimento al fatto che Sommariva gli ha commissionato un dipinto ma non dice esplicitamente che questo dipinto sarà un elogio, un omaggio di Canova e già esprime nella frase il faut pour cela que la difficulté ne soit pas superiore à mes forces la difficoltà che Girodè intravede a realizzare l'opera e in effetti l'opera gli prese come ho detto qualche minuto fa ben sette anni della sua vita. Nell'ultima parte della lettera si fa riferimento al fatto che Girodè ebbe il piacere di conoscere Canova negli anni romani quindi 1790-1793 quindi c'era stato un rapporto tra Girodè e Canova sappiamo che Girodè apprezzava particolarmente Canova infatti a lui nell'anno della sua morte 1822 dedica ben due incisioni di cui questa che raffigura il successo, il grande successo del Salon del 1808 e cioè la Maddalena penitente Allora da tutti questi documenti traiamo qualche conseguenza. La conseguenza fondamentale che traiamo è che probabilmente sommariva nel commissionare l'opera Girodè, gli fece capire che gli avrebbe fatto piacere che l'opera funzionasse come elogio, omaggio di Canova ma Girodè di fatto si sentì perfettamente libero di sviluppare il suo soggetto esattamente come voleva senza costrizioni e in effetti il dipinto esposto nel Salon del 1819, il dipinto concluso non contiene assolutamente alcuna allusione a Canova, al pigmalione moderno. In effetti Girodè aveva una psicologia particolare, un artista che fin dalla sua giovinezza è fissato con l'idea di essere originale, con l'idea di distinguersi dagli altri, di mostrare la sua bravura e sicuramente per un artista con questa mentalità non era accettabile in un dipinto commissionato da un celebre collezionista fare un omaggio a un altro artista che sebbene scultore era di fatto anche un suo rivale in qualche modo e quindi Girodè esclude nella genesi dell'opera di fatto il riferimento a Canova. In qualche modo forse il dipinto è una reazione a questa idea di omaggio a Canova, cioè le difficoltà incontrate da Girodè nella genesi dell'opera sono forse da ricondurre al fatto che in qualche modo Girodè voleva dimostrare al pubblico che se esisteva un pigmalione moderno per la scultura e questo era Canova, esisteva anche un pigmalione moderno per la pittura e questo era Girodè capace di rappresentare una figura femminile in fase di metamorfosi, quindi nella sua trasformazione da statua ad essere vivente. C'è da dire che Sommariva teneva particolarmente alla Tersicore, infatti aveva con le statue canoviane un rapporto particolare, un rapporto quasi morboso in qualche modo, l'abbiamo visto nelle lettere inviate a Canova dove Canova viene definito come il suo suocero perché lui, Sommariva, si considera il marito di Tersicore, sua sposa, al punto che il 23 gennaio 1813 Sommariva racconta a Canova di un banchetto nuziale organizzato per celebrare l'arrivo della sua sposa Tersicore, organizzato niente poco di meno che da Denon, cui parteciparono vari artisti, alcuni importanti Gerard, Prudon, David e lo stesso Girodè. Girodè sapeva benissimo di questo attaccamento morboso di Sommariva alla sua statua, ma anche alla Maddalena penitente per la quale aveva creato una sorta di boudoir a cui si accedeva nella penombra con le fiaccole, con tutta una mise en scène molto teatrale e quasi barocca e nello stesso tempo molto morbosa tra il sacrale e il boudoir per l'appunto e l'erotico. Ecco, Gerard doveva essere consapevole di tutto questo, ma decise di impadronirsi del soggetto e di svilupparlo appunto a suo modo. Ed infatti, come vediamo dal dipinto di Dejuin che ho mostrato poco fa, in bella mostra vi è il modello della Venere Medicea che costituì l'unico vero modello per la figura di Galatea di Girodè, cioè Girodè non si ispira a nessuna statua canoviana per la sua Galatea e per di più come testimonia questa lettera a Fabre del 20 giugno del 1819 decide di mettersi tutta una serie di difficoltà tra cui quella di fare stagliare il corpo di Afano di Galatea su uno sfondo ancora più luminoso, cosa che costituiva un vero e proprio tour de force non solo per Girodè ma per qualunque artista. Ecco, vediamo la Venere Italica, la Venere Medicea e la Galatea Venere di Girodè che riprende chiaramente il modello antico ma lo mette in moto, infatti Galatea stacca la mano dal pub e dà la mano alla Lamorino che come ho detto all'inizio costituisce il tre d'union tra le due figure. Ecco, qui abbiamo una serie di disegni preparatori datati 1813-14 quindi in pratica Girodè fin dall'inizio non pensa assolutamente a ispirarsi a opere canoviane e abbiamo questi altri due disegni che sono molto interessanti perché ci fanno capire che in un primo tempo Girodè immagina la scena in uno spazio interno come si vede qui e interpreta il soggetto in un primo tempo in una chiave più carnale. Galatea qui è sveglia, c'è Lamorino ma non ha tutta questa funzione di tre d'union perché di fatto i due amanti si toccano, Pigmalione tocca il seno di Galatea e le tocca anche la mano, mentre in una versione successiva più vicina appunto alla versione finale dell'opera notiamo che sì, Galatea ha gli occhi aperti però Pigmalione non la tocca, non c'è contatto come avviene nell'opera finale. Inoltre c'è un altro dato da considerare che questi due disegni testimoniano che in un primo tempo Girodè aveva pensato di mettere in evidenza gli strumenti del lavoro, quindi fare un riferimento al lavoro dello scultore, alla fatica dello scultore, cosa che invece verrà poi espunta appunto nel dipinto finale. Nel dipinto finale infatti i due amanti non si toccano e soprattutto Galatea ha gli occhi chiusi, quindi la scena è lasciata in sospeso. Non c'è assolutamente contatto e non sappiamo assolutamente se questo contatto ci sarà. Ora Girodè non era solo un pittore ma era anche uno scrittore, autore di vari testi sull'arte, discorsi accademici sull'arte, ma forse il suo testo più interessante e più significativo è il poema Les Peintres nel quale nel quinto canto si racconta il mito di Pigmalione e lo si descrive esattamente come è dipinto da Girodè nella tela del 1819. Infatti sia nei versi che nella versione dipinta Pigmalione va per toccare Galatea ma di fatto non la tocca e la soluzione finale diciamo quindi il miracolo che diventa realtà e quindi questa fanciulla che diventa vivente da statua che era viene lasciato quasi nel dubbio. Non si sa se realmente questo miracolo si compirà oppure no. Anche nei versi girodettiani non ci sono riferimenti al lavoro dell'artista, al lavoro scultore, alla sua fatica, riferimenti all'atelier assolutamente, anche nella versione poetica la scena si svolge in questo bel vedere magnifico, molto luminoso, senza alcuna idea del fatto che dietro la statua c'è un lavoro scultoreo, una fatica, un sudore in qualche modo. Girodè ci dà quindi una versione molto idealizzata dell'artista e della creazione artistica che avviene quasi in maniera miracolosa senza fatica, viene proprio idealizzato, ma soprattutto questo dipinto dichiara la chiusura della pittura in un mondo di bellezza, in un mondo assolutamente prezioso, ma come dicevo all'inizio del tutto lontano dalla vita reale, anche dalla vita concreta dell'artista, appunto parlavo del suo lavoro, del sudore, del resto lo stesso Girodè soffrì moltissimo per la realizzazione di quest'opera, sette anni sono tanti, eppure tutto questo lavorio che sta dietro il dipinto, tutta questa tragedia in qualche modo della realizzazione del dipinto, viene assolutamente celata nell'opera stessa. Vi mostro alcuni dettagli che mi ha dato molto gentilmente una grande studiosa di Girodè, Sidonile Meux, sono dei dettagli che ci fanno capire come quest'opera ha una tecnica straordinariamente perfetta, c'è un virtuosismo del pennello incredibile, l'opera è preziosa, è una sorta di bijou, lo si vede dalla cura in tutti i dettagli dell'opera, sembrano veramente dei riccioli d'oro questi capelli di Galatea. Ecco un altro dettaglio, il dipinto come ho detto venne molto criticato perché freddo, considerato freddo, molto criticato ovviamente da una parte dei recensori, ci furono i sostenitori di Girodè, ci furono i sostenitori della scuola neoclassica che difesero l'opera dalle accuse che vennero mosse. Sicuramente una delle cose più criticate, oltre alla freddezza del pigmalione, è questo amorino che venne considerato lezioso, inutile, un dettaglio inutile, addirittura un critico parla di errore d'ortografia. In realtà questo amorino ha un significato fondamentale nella mentalità girodettiana e nella sua visione estetica. Infatti nel poema Les Pintres Girodè dice che la pittura nasce da amore, cioè da questo istinto amoroso che porta l'artista a fissare delle bellezze fragili che prima o poi spariranno, che moriranno. In qualche modo l'arte è un baluardo nei confronti della morte, è uno scudo. In una sua poesia inedita Girodè dice che la funzione dell'arte è quella di tromper la mort, ingannare quindi non lo sguardo, ma ingannare la morte. Quindi c'è una visione consolatoria dell'arte che è tipica di Girodè, ma anche di una parte della cultura neoclassica. Ecco, l'arte deve consolare, per questo crea questo mondo luminoso, questo mondo prezioso, ma assolutamente distante dalla vita reale. Ecco, lo stesso amorino che quindi infonde la vita a Galatea lo ritroviamo in questa incisione che raffigura il mito di Dibutade, appunto questa fanciulla figlia di un vasaio di Corinto che decide di fare il ritratto del suo amante che sta per partire proprio per mantenerne il ricordo, perché quel ritratto sarà una sorta di sostituto del suo amante che sparirà e forse morirà. Quindi c'è quest'idea dell'arte che appunto inganna la morte, dell'arte che consola dal lutto, dalla sparizione. Ecco, questi sono aspetti tutti molto presenti nel poema Le peintre di Girodè, sul quale ovviamente in questa sede non posso dilungarmi più di tanto, ma quello che è interessante è che questa idea consolatoria dell'arte è solo un aspetto della visione di Girodè. Infatti sì, per Girodè l'arte può vincere la morte, può ingannare la morte, ma di fatto è un'illusione, cioè di fatto la morte continuerà a vincere. L'arte è una consolazione illusoria o un'illusione consolante, è un'idea che ritroviamo ad esempio anche in Foscolo, ma in altri autori, tutti gli autori legati al dibattito sulle tombe usano la parola illusione nella sua matrice russoviana esattamente nello stesso senso, cioè la tomba ha la funzione di addolcire il lutto, la tomba ha la funzione di ricordarci i defunti e il ricordo in qualche modo riscatta dalla dimenticanza chi è defunto per l'appunto. Ecco, in Girodè l'arte ha la medesima funzione della tomba, l'arte illude che la vita continui, che la morte sia sconfitta, ma è solo un'illusione. Quindi in realtà questo mondo luminoso che ci crea Girodè in questo dipinto, crea per noi, per noi spettatori, ci consola, ma in realtà è solo una faccia della medaglia, perché dietro, nell'altra faccia della medaglia, c'è il senso della fragilità, il senso della morte, del tempo che passa, rispetto a cui la bellezza ideale, la bellezza lontana dalla vita, è una sorta di contromisura, come direbbe Régis Debré nel suo libro Vita e morte dell'immagine. Ecco, ora ritorniamo ai versi della Croix e penso che alla fine di questa conferenza capiamo meglio il motivo per cui Delacroix non può apprezzare il dipinto di Girodè, non lo può apprezzare perché è un dipinto che non si può assolutamente conciliare con la sua idea di una pittura che denuncia il male del mondo, denuncia le tragedie del contemporaneo. Ecco, Delacroix va a scavare l'altra faccia della medaglia di cui la parte luminosa e consolante è costituita dal dipinto di Girodè. Del resto, Delacroix critica la scuola neoclassica non solo per una questione di scelta di soggetti, ma soprattutto per una questione stilistica, cioè Delacroix critica il fatto che la pittura neoclassica sia una pittura che nasconda l'aspetto materiale del colore, che nasconda il tocco. Ecco, una pittura perfettamente liscia e preziosa, mentre per Delacroix è proprio nell'aspetto materiale, fattuale dell'opera che si esprime l'interiorità dell'artista, quindi quello che appare come materiale, la densità del colore, i suoi grumi, il tocco, il modo in cui il colore è steso, in realtà è la parte più spirituale della pittura e questo, secondo Delacroix, non è stato affatto capito dalla generazione neoclassica. Tuttavia, Giraudet, come dicevo nella introduzione, è un artista alquanto variegato e alquanto complesso. Infatti, lo stesso autore del Pigmalione Galatea di Giraudet è l'artefice della tela del 1806, l'assente deluge, che appunto ci mostra proprio l'altra faccia della medaglia, il senso della fragilità dell'uomo dinanzi a una natura avversa e violenta, una natura che non si cura assolutamente del destino dell'uomo. Chiaramente l'assente deluge dichiara il crollo definitivo nella modernità del principio rinascimentale dell'uomo faber, questa fiducia nell'uomo, nelle sue capacità, nel suo farsi artefice del suo destino. Ecco, è una scena di diluvio in cui non c'è Dio e questa assenza di Dio rende il dipinto, come sottolineò un critico del 1806, completamente disperato. Tutto è disperazione in questo dipinto, disse appunto questo recensore del dipinto di Giraudet. Quindi Giraudet è una figura quasi schizofrenica che è capace di oscillare tra la bellezza ideale e l'espressione e anche è capace di dare dei messaggi assolutamente negativi, è capace di fare della pittura di storia uno strumento per rivelare una verità filosofica, quella della fragilità della condizione umana. Ecco, questo è il Giraudet che paradossalmente apre la strada a quel Gericot che la critica gli oppone nel Salon del 1819, sono le ironie della storia. Eppure Giraudet è un artista che in qualche modo, anche in tarda età del 1819, è capace di fare sorprese e quindi a pochi giorni dalla chiusura del Salon, dopo aver letto le critiche alla freddezza del suo dipinto, tira fuori un'opera sconvolgente, se paragonata al pigmalione galatea e cioè questo Mustafà, in cui trionfa il colore, in cui trionfa l'espressione e in cui lo stesso, lo stessa pittura ha quella densità materica che Delacroix non vedeva nei dipinti della scuola neoclassica e che invece qua Giraudet esibisce. Ecco, Giraudet è un artista molto intellettuale ma anche molto ma molto intelligente e con quest'opera lanciata al Salon poco prima dell'apertura dà una sorta di messaggio e avvertimento ai suoi detrattori. Sta dicendo che lui è capace di fare un dipinto in cui trionfa la bellezza ideale, ma è capace di fare anche qualcosa di completamente diverso, di fare una pittura che può piacere ai romantici come ad esempio lo stesso Delacroix. Quindi spero attraverso questo percorso di avervi dimostrato la complessità della figura di Giraudet. Ora nel 1824 che è l'anno del poema di Delacroix contro Giraudet, Giraudet stesso muore e al suo funerale Gros, grandissimo pittore dell'età imperiale, dell'età napoleonica, pronuncia un discorso funebre in cui si scaglia contro la nuova generazione romantica di cui faceva parte lo stesso Delacroix ed esalta Giraudet come l'ultimo baluardo della scuola neoclassica e in queste parole tragiche di Gros si sente la sua percezione che un'epoca è finita ed è forse finita proprio con quel pigmalione galatea che appunto aveva destato delle critiche positive ma aveva destato soprattutto delle critiche negative da parte dei sostenitori di Gericò e da parte della nuova generazione romantica. Ma il Mustafà è qui a testimoniarci che lo stesso Giraudet era capace nello stesso salone di essere neoclassico e di essere romantico. Finisce qui quindi questo viaggio che ci ha permesso di capire meglio il pigmalione e galatea di Giraudet ma anche Giraudet e spero anche questo momento importante che si gioca tra il 1819 e il 1824 di passaggio nella cultura francese dall'età neoclassica all'età romantica.